Intanto l'immagine di una bellezza, di una bellezza pura. Ho avuto la grazia quattro anni fa di ricevere il quadro della regina dei Giti a casa mia per qualche settimana. È stata una bella esperienza, abbiamo detto il rosario, abbiamo fatto delle riflessioni sulla regina dei Giti, insomma è stata una cosa molto molto bella. L'amorezza del cuore, cioè l'amorezza che si traduce in amore concreto. Quando sarei andato da casa mia il mio cuore si è rattissato un pochettino perché mi ero abituato a vedere queste immagini della regina dei Giti a casa mia. È favoloso, sono rimasta veramente molto colpita proprio dalla cupola, da questo mosaico che ti attrae, proprio come se ti portassi in paradiso con Gesù, perché era un Gesù anche a lei, un Gesù davvero favoloso. Poi l'immagine della Madonna che ha questo manto, come si raccogliesse sotto questo manto, come si è più veramente protetta da questo calore materno. Effettivamente sprigiona dalla sua immagine una purezza, una bellezza e questo lo trasmette, lo trasmette sicuramente. Regina dei Giti ci porta Gesù. Il Giti ci porta Gesù. Grazie a tutti.